Come avete sentito anche dai nostri titoli c'è questo dato inatteso sulla produzione industriale in crescita ad agosto su anno di più del 4%, è vero anche però che il Centro Studi di Confindustria stima invece il dato su settembre, quindi solo quello mensile, in calo. Andiamo subito quindi, visto che abbiamo la possibilità di chiedere ad un industriale e al Presidente degli Industriali Lombardi, Gian Felice Rocca, che cosa può significare questo dato? Possiamo veramente affidarci ad un singolo dato per dire la ripresa è arrivata? Benvenuto. No, direi assolutamente di no, poi fra l'altro la forte variabilità che vediamo in questi numeri, da un trimestre all'altro, da un mese all'altro, mi inducono a dire che dobbiamo aspettare che si stabilizzi in modo più permanente per un periodo abbastanza consistente. Quindi che ci sia un senso di fermata della discesa e di recupero, questa è una sensazione che noi percepiamo, percepiamo anche a Milano e dintorni. Ma poi che le statistiche in questo momento rappresentino con molta precisione, siamo su numeri troppo piccoli. Troppo piccoli, comunque una buona notizia, ma insomma non è ancora tempo di festeggiare. Rocca, ce l'ha ricordato lei, Milano, oggi era anche il giorno dell'assemblea annuale di Assolombarda, che per semplificare, per chi non lo sapesse, sono confindustria di Lombardia, considerato che la Lombardia partecipa per una quota enorme dell'industria italiana. Le chiedo, in questi anni, come ha visto cambiare Milano? Milano è cambiata moltissimo. Milano è oggi una delle città metropolitane che può giocarsi un ruolo a livello sicuramente europeo e anche mondiale. E lo fa con dei parametri intorno all'innovazione, dei parametri straordinari. Se noi pensiamo che la Bocconi è entrata nel primo 10% in business and management mondiale fra le università, che il Politecnico di Milano è riconosciuto per tutte le sue specializzazioni nei primi posti dai reclutatori europei. Quindi abbiamo Milano come hub della conoscenza, la Milano innovativa, stiamo recuperando nei brevetti, attenzione che nei brevetti, mentre nella scienza siamo in linea col Baden-Württemberg, la Baviera, la Cattolunia un po' sotto, nei brevetti siamo decisamente ancora insufficienti. Abbiamo un quarto dei brevetti da Baviera, ma stiamo recuperando. Stiamo recuperando anche nella competizione dei fondi europei scientifici. Quindi dobbiamo tradurre più scienza in innovazione, in tecnologia, ma nell'export Milano è molto forte. E poi Milano in 60 chilometri ha il 25% il manufatturiero e ha il 25% dell'export italiano. Quindi Milano è il centro delle città metropolitane che fanno e oggi sono i motori della crescita del mondo. Rocca, lei, insomma, resumo qualcuno dei dati di cui ha già parlato lei. 7 miliardi di esportazioni cresciute rispetto al picco del 2008, disoccupazione del 2015 al 6,9%, nuovi brevetti, come ha detto lei, non bene quanto si vorrebbe, ma già comunque un risultato. Sono i numeri della Lombardia e sono però numeri molto diversi da quelli del Paese. Perché? Diciamo che l'economia moderna è un'economia fortissimamente centrata sull'innovazione, su questa capacità del mondo e della scienza, la ricerca di trasferirsi in prodotti, mercati, innovazione. Ecco, i punti del mondo dove si accumulano queste conoscenze e riescono a scambiarsi vicendevolmente non sono molti e sicuramente noi ne abbiamo in Italia di cluster, diciamo, uno può prendere per esempio la Motor Valley dell'Emilia Romagna, ci sono punti della Veneto, Torino è molto forte in certi aspetti che riguardano l'automotive. Questi sono punti che aiutano a competere il mondo. È cambiata la competizione enormemente, i mercati sono più lontani, il mondo si digitalizza, i servizi prevalgono sui prodotti. Quindi in questa trasformazione globale l'Italia si è trovata in affanno. Le imprese italiane sono molto più piccole di quelle tedesche mediamente, la managerializzazione delle imprese è insufficiente, il contenuto tecnologico ancora non è sufficiente. Però l'Italia ha grandi imprenditorialità, riesce a combinare l'innovazione in modo straordinario e quindi c'è uno sforzo. Questo è un parto prolungato di un mondo che è cambiato moltissimo, in cui noi stiamo faticando, ma credo che si vedono, stiamo bloccando la decrescita che abbiamo visto nel passato. Abbiamo con noi anche, sempre in collegamento da Milano, dalla sede del Corriere della Sera, il vice direttore del Corriere Federico Fubini, che salutiamo. Salve, buongiorno, buonasera. Fubini, il presidente Rocca ci ha parlato di una situazione di ripresa, oggi Renzi ha parlato anche del fatto che stiamo uscendo dalla palude, però ha citato fondamentalmente il Veneto, il Piemonte e parte dell'Emilia, oltre ovviamente alla Lombardia, sono tutte regioni del nord. Che cosa manca al sud per fare in modo che sia l'intero paese a crescere? La questione meridionale è vecchia quanto la nazione. Con un titolo, direi non solo al sud, ma cosa manca al paese, non solo un livello medio di istruzione più alto, che sicuramente manca, la quota dei laureati sulla popolazione italiana lo sappiamo è molto più bassa purtroppo di quella di paesi con i quali competiamo in termini per esempio di costo del lavoro, ma anche forse in parte gli incentivi giusti alle famiglie, ai giovani a studiare di più. Naturalmente la crisi di questi anni ha significato che purtroppo un laureato ha di fronte a sé la prospettiva di guadagnare come salario d'ingresso in media 1000 Euro al mese netti e questo non è un incentivo sufficiente a convincere le famiglie e anche i giovani a intraprendere un percorso di studi, investendo del denaro e rinunciando ai redditi che avrebbero potuto avere cercando un lavoro subito dopo il diploma. Però poi questa è una trappola perché naturalmente una società a più basso livello di istruzione è una società a più basso valore aggiunto e dunque una società che è in grado a sua volta di essere meno produttiva e di remunerare meno il lavoro. Dunque se dovessi indicare un punto di partenza è non solo più istruzione ma anche trovare il modo di incentivare di più i percorsi di istruzione nel nostro paese. Oltre che la qualità e questo si apre poi un discorso sulle università che è più complesso. Assolutamente. Rocca, tra le cose che bisogna fare per fare in modo che il meridione d'Italia si metta sulla stessa carreggiata su cui sembra essere in nord o parte del nord Italia, serve anche un ponte sullo stretto? Ma questo è un problema di priorità, se io dovessi in un sistema di risorse scarse utilizzare in questo momento i fondi, li concentrerai, do ragione a Fubini, li concentrerai enormemente sul mondo della ricerca, innovazione, educazione, education. Ecco, perché se noi con un miliardo in questo settore, per esempio un miliardo di euro sulle università può cambiare profondamente il mondo universitario, possiamo creare meritocrazia, spingere i migliori, quindi servono molti meno fondi da questo punto di vista. Noi è vero che abbiamo, oggi lo citavo, noi abbiamo 30% di giovani che si laureano contro il 40% della Catalunia, cioè di Barcellona, quindi noi dobbiamo lavorare su questi fattori. Ovviamente non basta studiare di più, bisogna anche orientare verso le professioni dove si può trovare lavoro e fra l'altro non si studia solo per stare in Italia, siamo europei e studiamo per tutta l'Europa, diciamo, perché è giusto che i giovani in una situazione in cui magari nell'economia non trovano il lavoro direttamente in Italia, ma noi dobbiamo preparare i giovani a avere una propria carriera, trovare la propria remunerazione, quindi noi stiamo preparando i giovani per tutto il mondo, poi come sistema economico dobbiamo competitivamente recuperarli sul nostro territorio. Io credo che anche nel sud abbiamo delle isole di qualità scientifica e tecnologica altissime e abbiamo visto investimenti come quelli dell'Apple a Napoli, vediamo investimenti proprio che sfruttano la grande capacità intellettuale che noi abbiamo nel nostro Paese, quindi se noi lavoriamo su questi temi, secondo me lavoriamo sul motore dei motori, in una società che evolve rapidamente l'innovazione e la vera garanzia di futuro. A proposito di crescita, avremo a breve la manovra del governo, parte di questa manovra dovrebbe portare l'Italia a continuare a crescere perché già stiamo crescendo. Sappiamo che dovremmo crescere, qualcuno ha detto in modo troppo ottimistico la stima del governo, è quella di crescere dell'1%, lei crede in questo 1%, il Centro Studi Confindustria parla di cifre ben diverse. Ma guardi, per me discutere se cresciamo 0,5% l'1% onestamente... È la stessa cosa che ha detto Renzi, stiamo parlando dello 0,0. Stiamo parlando del 0,0. Noi abbiamo bisogno, avendo un debito importante, abbiamo bisogno di pagare il debito con la moneta della crescita. Gli Stati Uniti che dopo la seconda guerra mondiale si trovavano con un forte debito del 200%, non l'hanno mai pagato con sui primari, ma l'hanno pagato con la moneta della crescita. Pagarlo con i sui primari è una difficoltà nel tempo gravissima. Quindi per me che sia 0,5% l'1% di quello che ho detto a Milano, perché l'Italia possa viaggiare sopra l'1%, occorre che Milano e Lombardia viaggino sopra il 2-3%. Questa è la sfida che ci diamo come industriali lombardi e come industriali milanesi. Tra le cose che ha detto oggi c'è stato anche una parte del suo discorso riguardante anche il job sector, mi è sembrato di capire che da parte sua ci sia una notazione assolutamente positiva. È un primo passo, l'ha detto anche lei, le chiedo qual è quello successivo, sempre per quanto riguarda il mercato del lavoro. Ma guardi, il job sector è un sistema per spiegare e cambiare i paradigmi del mercato del lavoro. Oggi non è tanto che il lavoro sia precario, è che i mercati sono precari e costringono il lavoro a cambiare di paesi, città e anche mestieri. Quindi diventa super importante la cosiddetta employability, cioè che le persone abbiano delle qualifiche che gli consentono di spostarsi da un mestiere all'altro, che funzioni un sistema attivo che è un po' quello che c'è per esempio in Danimarca di Flex Security, cioè di aiutare le persone nei loro movimenti, dandogli la possibilità e le competenze per farlo. Questo diventa importantissimo, questo è il gioco del futuro sul mercato del lavoro. Quindi dovessi dire, ecco, in questo campo possono anche aiutare i privati. Gli uffici di collocamento pubblici sono riusciti a dare lavoro all'1% di chi si trova senza lavoro, mentre già funzionano molto meglio i voucher affidati anche a società private che gestiscono questa problematica perché hanno il dovere di successo. Quindi questo secondo me è una priorità assoluta per quanto riguarda le nuove caratteristiche del lavoro insieme alla legge che consente di pagare di più in salari di produttività. Dobbiamo dare più al lavoro ma dobbiamo legarlo dove cresce l'economia, dove crescono le aziende. Noi stiamo bloccando il Paese se non facciamo questo e blocchiamo anche la quantità di salari. Dobbiamo lavorare su questo fronte. Fubini, da una parte c'è la flessibilità e ovviamente l'aspetto positivo, dall'altra c'è la precarietà. Si può avviare con un sistema di welfare di un certo tipo che in questo momento sembrerebbe mancare in Italia, quindi rischiamo di precarizzare il lavoro se non facciamo tutti e due i progetti, quello di flessibilizzare e quello di dare welfare nello stesso momento. Ma sì, purtroppo quello che forse dispiace e frustra molto persone come noi, penso anche come Rocca, è che stiamo parlando delle stesse cose da molti anni. Lo sappiamo, le risorse sono molto limitate e soprattutto sono molto limitate se la crescita nominale in Italia continua a essere più bassa del costo medio del debito. Questo impone un tecnicismo, però vuol dire che i ricavi in euro di tutto il sistema, che siano lo Stato, le imprese e le famiglie, sono in media più bassi del costo degli interessi sullo stock che gli attori dell'economia italiana hanno, che siano appunto il governo, le famiglie. E' come se uno guadagnasse meno delle rate del mutuo che deve pagare, certo. Sì, la crescita dei suoi ricavi, dei suoi guadagni è più lenta della crescita degli interessi, è più bassa degli interessi. Questo è il problema di tutto il Paese e continua purtroppo a essere il problema di tutto il Paese dopo due anni di interventi della Banca Centrale Europea per tenere bassi i tassi di interesse. Questo personalmente mi preoccupa, molto perché lo sappiamo che non si esce dalla crisi finché la crescita nominale non supera il costo medio degli interessi. Non è successo in Italia, è uno dei pochi Paesi in cui non è ancora successo ed è per questo che noi vediamo ancora questa debolezza dei consumi e degli investimenti, perché le persone risparmiano perché hanno questi oneri molto pesanti. Come se ne esce? Se si tratta di lavorare sulla spesa, io vorrei dire una cosa che è anche un po' impopolare. Secondo me non è male, non era male la proposta di Tito Boeri che è stata accantonata, di riflettere un attimo ad una parte delle pensioni più alte che in un calcolo strettamente contributivo è eccessiva. Se noi una parte di quel delta in più lo ricalcolassimo sulla base dei contributi effettivamente versati dalle persone nelle pensioni alte, non avremmo la situazione di oggi. La situazione di oggi lo riassumo con una cifra. Prima ancora di questi interventi sulle pensioni che si faranno con questa legge di stabilità, l'aumento del costo del budget delle pensioni in Italia dal 2013 al 2018 è calcolato in 25 miliardi. Questo diciamo con la riforma Fornero così com'è. Se poi il governo interverrà ancora, questo costo, bisogna vedere poi il dettaglio delle misure, ma sicuramente l'aumento di spesa delle pensioni sarà ancora maggiore. Dunque andiamo intorno ai 30 miliardi. Questo nel Paese con i vincoli di risorse che noi abbiamo. Dunque se vogliamo liberare delle risorse dobbiamo anche pensare a misure impopolari. E non investire sui vecchi, come è stato anche già detto. Rocca, le chiedo di intervenire su quanto ha detto adesso Fubini. Un intervento sulle pensioni alte, stiamo parlando di quelle calcolate ancora con il metodo retributivo. Lei come lo vedrebbe? Io lo vedo positivamente. Io trovo che mantenere delle pensioni alte che non hanno contribuito durante tutta la loro vita per questi privilegi di avere pensioni così alte e sottrarre queste risorse alle pensioni più basse o a tutta l'economia, mi sembra che in un sistema di risorse scarse sia un errore. Quindi io sono favorevole a quello che diceva Fubini. Allora, ci ha raggiunto, ma prima di collegarsi con Zingales che ci ha raggiunto, anzi noi abbiamo raggiunto lui a Chicago. Le faccio ancora un paio di domande Rocca. Una sul referendum, il bicameralismo, il superamento del bicameralismo da parte di Compra Industria è visto sicuramente di buon occhio. Però il Senato rimarrà. Secondo lei si poteva fare qualcosa di ancora più forte? Guardi, io penso che noi siamo il paese del sì ma. Sì ma si poteva fare di più. Io ritengo che una situazione che ridistribuisce certi poteri fra regioni e Stato centrale sia importante e questo semplificherà la vita di famiglie e anche la vita di imprese. Quindi andiamo in una certa direzione. Anche oggi ho sostenuto che però poi per le autonomie restanti non bisogna percorrere l'idea dell'autonomia sfiduciata. Ciò che resta di autonomia deve essere veramente in grado di fare innovazione, di essere liberata da balselli e quindi da burocrazia. Questo è un passaggio secondo me della riforma importante. Certamente la presenza di un Senato ridotto che interpreta le autonomie può essere utile se troviamo la giusta proporzione e la ragion d'essere di tutto questo. Quindi io trovo che è un grosso miglioramento avere una sola Camera deliberante, semplificata. Quindi andiamo nella direzione giusta. Poi si poteva fare di più. Diciamo che gli equilibri politici non sempre è facile fare il meglio ma diciamo che è già buono fare un passo avanti importante. Un'altra domanda. Parliamo dell'Europa. Cito lei oggi ha detto se l'Europa si frantuma saremo tutti più deboli. Non parlava solo delle imprese, parlava anche dei cittadini. Eppure molti suoi colleghi industriali dicono che il loro problema è l'Euro. Perché lo dicono e come farebbe a convincerli del contrario? Ma ci sono due modi per convincere del contrario. Uno è reimmaginarsi un'Italia che torna in un sistema separato, in un mondo che intanto è cambiato in forma così massiccia e sicuramente sarebbe veramente drammatico rimanere soli, separati e piccoli. Il secondo è che il costo dell'uscita dalla moneta unica. Noi l'abbiamo vissuto come grandi industriali in Argentina quando c'era il cosiddetto pegging col dollaro, l'abbiamo vissuto in Messico quando c'è stata la cosiddetta crisi tequila. Uscire da una moneta unica è una qualcosa senza aver più la stampante con cui stampare moneta, è una cosa di una difficoltà tremenda. Ciò non toglie che starci dentro richiede quindi uno sforzo notevolissimo, dobbiamo migliorare e migliorare e dobbiamo anche contare che l'Europa cambi alcuni suoi parametri. Oggi la costruzione della moneta unica così come è nata sicuramente ha dei difetti molto grossi e quindi dobbiamo lavorare sui defronti, ma come ho detto oggi fuori dall'Europa i problemi sarebbero veramente grandi. Oggi hanno vinto il Nobel due studiosi dell'economia dei contratti, tra l'altro uno dei loro heart è un'insegnante di Harvard dove lei, Rocca, ha studiato ed è anche un collega, immaginiamo anche un amico di Luigi Zingales che salutiamo in collegamento da Chicago. Ci spieghi lei Zingales di che cosa si tratta nel senso l'economia dei contratti, per noi è un po' una novità. Beh guardi, capisco perché quando io ho studiato in Italia ormai 35 anni fa la parola contratto non c'era nei corsi d'economia, c'era solo in quelli di diritto. Oggi invece la teoria dei contratti viene studiata in tutti i principali atenei del mondo, comprese l'Italia e questa teoria dei contratti disciplina o spiega la maggior parte del mondo perché gli economisti tradizionalmente si occupavano di mercati. Però la maggior parte delle nostre transazioni, quella di impiego presso una società al contratto di locazione, al contratto di assicurazione, sono una serie di contratti che regolano le nostre transazioni economiche con il resto del mondo. Questi due studiosi sono stati pionieri nello spiegare come questi contratti devono essere disegnati per essere più efficaci, questo particolarmente Ben Olmson. Oliver Hart non solo ha spiegato come questi contratti devono essere disegnati, ma anche ci ha spiegato qual è l'importanza del diritto di proprietà quando questi contratti o non possono essere scritti o sono difficilmente applicabili perché la giustizia non funziona. Quindi questo è particolarmente interessante per l'Italia dove la giustizia va spesso a rilento. Zingales, parliamo spesso di manager bancari che dopo aver mandato a monte le banche per cui lavoravano e anche i risparmi dei cittadini se ne escono con dei bonus miliardari. Quanto questa teoria, se applicata, potrebbe ovviare a questo scempio? Una delle idee fondamentali di Ben Olmson è che i contratti, ad esempio, dovrebbero essere basati sulla performance relativa e non assoluta. Questo è un concetto che è molto ostrico ai managers perché io l'ho provato in prima persona, i manager adorano di essere compensati molto quando le cose vanno bene anche se non è merito loro e poi invece piangono il morto e dicono non è colpa loro quando le cose vanno male. Invece Ben Olmson dimostra come i contratti andrebbero fatti sulla performance relativa ad esempio rispetto all'industria. Il secondo punto importante è che, ha iniziato Ben Olmson, è che quando i manager hanno funzioni diverse bisogna stare attenti a come si danno i contratti perché molto spesso si finisce per, o il manager finisce per focalizzarsi su quelle task, su quel compito per cui è pagato di più e non necessariamente per il compito che è più importante. Quindi pesare giusti gli incentivi è una delle implicazioni forti di Ben Olmson. Grazie Zingales, grazie a Federico Fubini e al presidente di ASSO Lombarda Gianluigi Rocca. Il nostro tempo è finito, linea adesso al Tg del 19, in primo piano l'infuocata direzione del Partito Democratico con Matteo Renzi che cerca di mediare le diverse posizioni del partito. Il Premier conferma le aperture sulle modifiche.